La veduta aerea della costa di Scheveningen, subito fuori Laia, The Hag o Denag in olandese, se lo stiamo chiamando, la chiamano tutti in tutti i modi, questa grande ruota, questa installazione che porta in qualche modo la città sul mare, ormai ci siamo abituati a concepirla, a vederla così, ma in questi giorni davvero The Hag, Laia, chiamatela come volete, è la grande capitale della vela mondiale e della vela olimpica soprattutto, è il super mondiale, così l'abbiamo chiamato, il mondiale di tutte e dieci le categorie olimpiche della vela ed è anche la prima occasione per qualificare i posti in azione per le olimpiadi di Parigi 2024, la vela come sapete sarà a Marsiglia, 107 i posti a disposizione, i posti in azione da questo super mondiale, ma 1200 gli equipaggi, gli atleti, i velisti di tutto il mondo da 80 nazioni che si li contenderanno, regate dall'11 al 20 agosto, quindi il mondiale di ferragosto in qualche modo, noi adesso queste immagini si riferiscono alla prima giornata che è stata un po' singolare perché questi sono addirittura degli allenamenti, delle preparazioni, tra poco vedremo la prima giornata, i primi giorni hanno diciamo battezzato i velisti a Scheveningen con condizioni diverse da quelle che si attendevano, si attende e si avrà e si è già avuta dal secondo giorno, onda, pioggia, vento forte. Nella primissima giornata invece le condizioni sono state un po' più docili, più dolci, tra poco vedremo e sentiremo in questo primo servizio, li stiamo già vedendo, ecco la qua in quotatura aerea, Ruggero Tita e Caterina Banti, partiremo proprio da loro, ma questa bellissima immagine di un velista di colore su una barca ancora più colorata di lui, Lanza 303, World Sailing ha voluto fortemente, è molto significativo, è molto importante unire al mondiale della vela olimpica anche il mondiale delle classi parasailing, la lotta, la battaglia politica per riportare la vela alle Paralimpiadi continua. Questa è la scena della cerimonia di apertura dove il presidente di World Sailing, Wanai Li, il cinese Wanai Li, ha insomma riunito un po' tutte le squadre presenti, una cerimonia un po' dispersiva in questa grande spiaggia, enorme location, abbastanza confusa un po' di Sheven Ingel. La logistica non è facile, vedete anche da queste immagini bellissime sul drone, si esce dalla spiaggia, da alcuni scivoli, non tutte le classi sono insieme, questa prima abbiamo visto i 49er, adesso stiamo vedendo i 4,70, siamo nel paddock, nella spiaggia dei 4,70, l'uscita come vedete, eccola qua, la fila per andare un po' a trovare un posto sullo scivolo, condizioni da Mare del Nord, da Europa del Nord, ma anche con sprazzi di sole, un omaggio a uno dei nostri sponsor. Queste sono, come vi dicevo, le immagini del Day 1. Il primo giorno, come vedete, sembra di regatare il Mediterraneo, non sembra assolutamente di essere a Sheven Ingen, poi nei prossimi servizi vedrete anche immagini ben diverse, perché già dal secondo giorno, 20 nodi di vento, onda, cioppi, corrente, tanta roba da vedere e da considerare. Tra poco vi dicevo, in questo contributo, l'intervista, le prime dichiarazioni, da chi siamo partiti, se non da loro, Ruggero Tito e Caterina Banti, le nostre medaglie d'oro di Tokyo 2020, però voglio ricordare già da adesso che nei giorni caldi del Super Mondiale, da Laia, da The Ag, avremo l'inviata di Seili, Francesca Frazza, e quindi contributi, interviste, articoli, video dal Super Mondiale olandese con Francesca. Saremo in collegamento tutti i giorni praticamente dal 14, ma intanto ancora immagini dal primo giorno e tra poco, vi dicevo, sentiremo Ruggero e Caterina. Voglio anche ricordare che l'Italia, la squadra italiana, la nazionale italiana, mentre intanto vediamo proprio la partenza di una delle prime regate del primo giorno, pensate subito, tripletta, primo, primo, primo per Ruggero e Caterina, ci sono 32 barche con la scritta ITA e la bandiera italiana al via, e ci sono ben 46 atleti, pensate che squadrone agli ordini, diciamo sotto la direzione del direttore tecnico Michele Marchesini, quindi anche poi lo staff tecnico, parleremo anche di loro e anche con loro. Ma intanto, eccoli qua, i sovrani incontrastati, Caterina, Marianna Banti e Ruggero Tita. Sentiamo cosa hanno detto ai microfoni di World Sailing nel primo giorno di questo super mondiale. Siamo qua al primo giorno del campionato del mondo, sarà la prima occasione per selezionare la nazione per i giochi olimpici di Parigi 2024. Ovviamente noi siamo qua con un ottimo team, formato da quattro barche, tutte le barche sono molto competitive e potranno giocarsi il titolo, quindi cercheremo ovviamente come primo obiettivo di qualificare la nazione e poi di fare un ottimo risultato al campionato del mondo. Questo è il secondo mondiale, il primo è stato in Canada l'anno scorso, con il nuovo sistema di regolazione del rake dei timoni. Dallo scorso mondiale le uniche due regate che sono state fatte sono Palme e Ier e sono state con condizioni di vento leggero, quindi non abbiamo quasi mai volato. Quindi sarà interessante qui vedere la prima regata con una flotta importante, con 70 barche, vedere che cosa accadrà col volo di bolina, quando paga, quando non paga e soprattutto in un posto come Scheveningen in cui c'è onda e ci può essere onda. Ciao!